Quali sono le cause di crampi ai piedi? I crampi ai piedi sono qualcosa che molte persone sperimentano di volta in volta. Ci sono molte diverse ragioni per cui si possono sviluppare i crampi ai piedi. Alcuni hanno a che fare con la nutrizione, mentre altri periodi sono dovuti a sforzi eccessivi sui piedi stessi. Uno dei motivi più comuni per i crampi ai piedi è la fatica antiquata. I crampi possono verificarsi quando i piedi sono semplicemente stanchi di camminare o stare in piedi per lunghi periodi di tempo. Questo può essere particolarmente vero nelle situazioni in cui il camminare e la posizione in piedi si svolgono su una superficie dura e spietata, come il cemento. Spesso, aggiungere degli inserti di ammortizzazione alle scarpe aiuterà a ridurre al minimo parte dello stress e della tensione dei piedi e aiuterà a eliminare i frequenti crampi ai piedi. Dolore al piede e crampi possono anche essere un segno di diminuzione della circolazione. Quando il flusso di sangue alle estremità non è quello che dovrebbe essere, quelle estremità non ricevono l'ossigeno di cui hanno bisogno. Quando si tratta di piedi, una fornitura inadeguata di ossigeno può causare crampi ai muscoli dei piedi. Affrontare il problema di salute che causa la diminuzione della circolazione aiuterà a minimizzare l'incidenza dei crampi ai piedi. Una mancanza di vitamine e minerali essenziali può anche causare crampi ai piedi. Bassi livelli di potassio spesso causano crampi alle gambe e ai piedi. Le carenze nutrizionali possono essere corrette mangiando una dieta equilibrata e utilizzando gli integratori per fornire al corpo tutto ciò che non viene ottenuto dal cibo. Un crampo ai piedi a causa di una cattiva alimentazione può essere invertito nel giro di pochi giorni, quando il corpo inizia a ricevere il giusto equilibrio di vitamine e minerali su base giornaliera. Una scarsa idratazione può anche innescare un attacco di crampi ai piedi. L'acqua potabile sarà spesso di aiuto, tuttavia, chiunque fumi o beva regolarmente alcolici vorrà provare a ridurre quelle abitudini. Sia il fumo che il consumo di alcol possono aumentare le possibilità di disidratazione e quindi possono essere la causa principale dei crampi ai piedi. Problemi di salute generali possono anche causare crampi ai piedi. Le persone con diabete a volte subiscono crampi ai piedi a causa della diminuzione del flusso di ossigeno ai piedi. Ci sono trattamenti che aiutano a minimizzare i disagi fisici causati dal diabete e da altre condizioni di salute minimizzano il potenziale per sperimentare crampi in uno o entrambi i piedi. Spesso, i crampi ai piedi sono un dolore temporaneo che andrà via rapidamente apportando alcuni cambiamenti di stile di vita o dietetici. Se i crampi ai piedi persistono, è importante consultare immediatamente un medico. I crampi ai piedi possono essere un segno di una malattia sottostante che può essere efficacemente curata se catturata nelle fasi iniziali.